Salete Sahagat Salete 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 Io vedrei più un corretto. Come li fate i tarallumi? L'impasto, la farina viene da Altamura. Si impasta con olio, vino e sale. Sale oppure le spezie che bisogna... ...e poi vengono formati a mano. Poi dalla formatura viene fatta la bollitura. E si fanno asciugare dopo la bollitura? No, no, i rototti. La bollitura le cuosce un po'? Sì, no, bolliti per giusto qualche minuto, come la pasta. E poi vengono? Per esempio di salire, diciamo, dalla bollitura e poi vengono infornati per la cottura. Vengono infornati subito dopo la bollitura? Sì, sì, dopo qualche minuto, tempo di asciugare giusto, di prendere un po' di acqua. Sì, sì, dopo qualche minuto, tempo di asciugare giusto, di prendere un po' di acqua. Sì, sì, dopo qualche minuto, tempo di asciugare giusto. Sì, sì, dopo qualche minuto, tempo di asciugare giusto.